Mi chiamo Patrick Roddy, sono un attivista e ricercatore anti-geo-ingegneria di San Francisco che gestisce StopSprayingUs.com. L'udienza di oggi dovrebbe riguardare se le emissioni di gas a effetto serra provocata dagli aerei compromettono la salute pubblica. Quando si parla di gas a serra, la maggior parte delle persone pensa al biossido di carbonio, una traccia di gas essenziale per tutta la vita sulla Terra. Ma il CO2 rappresenta solo il 3% del gas a serra del pianeta, il 95% è acqua. Anche i bambini in età prescolare sanno che i cieli nuvolosi rendono le notti più calde e le giornate più fresche. Le nuvole isolano, intrappolano il calore e riducono la gamma di temperature dai minimi della notte ai massimi del giorno, il che provoca scie persistenti. Tutti, a parte l'ignorante più ignorante, sanno che i nostri cieli sono cambiati drasticamente negli ultimi decenni. I cieli blu intenso della nostra infanzia sono stati sostituiti da una nebbia bianca latiginosa incrociata con scie persistenti in rapida espansione, le quali si estendono da un orizzonte all'altro e si espandono per coprire il cielo. Queste tracce possono estendersi per migliaia di miglia e possono essere viste da chiunque visite nasa.gov. Queste tracce persistono indipendentemente da altitudine, temperatura, umidità o altre condizioni atmosferiche. Le scie persistenti erano rare, ma ora sono diventate un fenomeno quotidiano in tutto il mondo. Se la fisica non è cambiata, che cosa lo fa? Quindi cosa provoca il formarsi di queste scie? Persistono per ore e si estendono per migliaia di chilometri. Su quali nuclei di condensazione si stanno formando e sono dannosi per la salute umana? I geo-ingegneri propongono di spruzzare decine di milioni di tonnellate di particelle riflettenti nell'atmosfera nel tentativo di riflettere la luce solare nello spazio e ridurre il riscaldamento globale. Questo è noto come Solar Radiation Management, Stratospheric Aerosol Injection o Albedo Modification. Questo processo brevettato dall'imprenditore della difesa Rayton è abbastanza semplice. Piccole particelle spruzzate dai getti agiscono come nuclei di condensazione, attirando il vapore acqua atmosferica per formare scie chimiche persistenti nucleate artificialmente, che poi si diffondono per formare una copertura di nube di cirri artificiali. Quando i geo-ingegneri discutono sulla gestione delle radiazioni solari in pubblico, le uniche sostanze che dicono di prendere in considerazione sono i solfati o l'acido solforico. Tuttavia, la loro stessa letteratura conclude che i solfati hanno un'efficacia limitata e che invece dovrebbero essere utilizzate nanoparticelle altamente tossiche di alluminio e bario, e quando vengono affrontati si rifiutano ostinatamente di affrontare l'impatto sulla salute umana delle proposte. Altri geo-ingegneri sono più sinceri riguardo ai loro piani di avvelenare il cielo. Ken Caldeira di Stanford ha ammesso nel 2006 di aver parlato di agenti patogeni nelle nuvole per condurre una guerra chimica e batteriologica sulle popolazioni civili quando lavorava in un laboratorio di armi del governo. Non sorprende che il pubblico dubiti che questi scienziati abbiano a cuore i loro migliori interessi. Il mese scorso ho portato questo documento alla conferenza sul clima di Parigi, affrontando gli effetti avversi sulla salute umana delle soluzioni proposte di geo-ingegneria. Richiedo formalmente che venga inserito nel registro. documenta il drammatico aumento di Alzheimer e dell'insufficienza respiratoria a partire dagli anni 90, quando le scie persistenti sono diventate comuni in tutto il mondo. Concludo che queste scie persistenti sono infatti nucleate artificialmente, con i metalli particellari tossici delineati nel brevetto di Raiteo, e che un programma di gestione della radiazione solare è stato utilizzato almeno dagli anni 90. La ricerca sulla modifica del clima non è una novità. Il primo brevetto risale al 1920. Il brevetto di Raiteo propone di ridurre il riscaldamento globale iniettando alluminio, torio e altri ossidi metallici nella gamma da 10 a 100 micron nella stratosfera usando lo scarico a getto. La Marina degli Stati Uniti ha brevettato un altro metodo di consegna che forma scie chimiche nucleate artificialmente da ossidi metallici con una dimensione delle particelle 0,3 micron. Altri metodi includono dirigibili a razzi, ciminieri e altre cose. Il più noto sostenitore della Solar Radiation Management è il dottor David Cate. Ha detto alla riunione annuale 2010 dell'Associazione Americana per l'Avanzamento della Scienza che l'ossido di alluminio ha 4 volte il potere radioattivo o volumetrico per le piccole particelle come lo zolfo e 16 volte meno il tasso di coagulazione. Le particelle di zolfo aderiscono e precipitano rapidamente fuori dalla stratosfera e sono molto meno efficaci per unità di massa. Ha anche detto che uno studio di nanotecnologia ha dimostrato che era molto semplice spruzzare particelle di allumina di alta qualità da un piano iniettando vapore di allumina nello scarico. Il suo documento del 2010, l'evitazione fotoforetica di aerosoli ingegnerizzati per la geoingegneria, propone di spruzzare dischi di alluminio bario, titanio e ferrite a spessore 50 nanometri anziché solfati. Inoltre hanno concluso che le particelle nano di alluminio erano molto più efficaci dei solfati in una prospettiva del 2010 Nature Climate Change. La scheda di sicurezza dei materiali per l'ossido di alluminio nano particolato afferma che è irritante per il sistema respiratorio, è implicata nella malattia Alzheimer, può causare malattie bolmonare, tumori e neoplasie e non deve essere rilasciata nell'ambiente senza i permessi necessari. La malattia dell'Alzheimer è salita alla sesta causa principale di morte negli Stati Uniti dall'ottava tra il 99 e il 2013. Nel 1994 non ha nemmeno raggiunto la top 10. Ora le persone sui 20 anni mostrano segni di Alzheimer. La ricerca rileva che l'alluminio si accumula nel cervello, nelle ossa, nei reni, è una neurotossina, accelera l'invecchiamento cerebrale, aumenta lo stress ossidativo, l'infiammazione del cervello ed è 7 volte più biodisponibile quando inalato rispetto a quando ingerito previa orale. Il bario è molto più letale. In base alla scheda di sicurezza relativa all'esposizione ai sali di bario può causare arresto polmonare, vomito, diarrea, tremori convulsi, paralisi muscolare, shock, convulsioni e insufficienza cardiaca improvvisa. Il bario colpisce i sistemi cardiovascolare, nervoso, gastrointestinale, ematologico, respiratorio, riproduttivo e renale nonché le ghiandole sul renali e il fegato. Inoltre è irritante per la pelle e gli occhi e non deve essere rilasciato nell'ambiente. Nel 2011 l'insufficienza respiratoria ha superato l'ictus diventando la terza causa principale di morte negli Stati Uniti, in un momento in cui il fumo era ai minimi storici. Gli standard di emissione sui veicoli e le centrali elettriche erano nella posizione più severa con l'industria pesante che è andata in Cina. Centinaia di articoli scientifici dimostrano completamente la tossicità sia dell'alluminio che del bario. Servirebbero giorni per visionare l'intera prova. Secondo l'EPA l'inquinamento da particolato può causare la morte precoce da infarto, ictus, insufficienza cardiaca o congestizia e malattia polmonare o struttiva cronica. Provoca anche asma e infiammazione del tessuto polmonare e può causare danni al cancro, alla riproduzione e allo sviluppo. L'inquinamento da particolato può ridurre l'aspettativa di vita di uno o tre anni. Acqua e ghiaccio hanno indice di rifrazione rispettivamente di 1333-1309 e producono arcobalini con un raggio angolare di 42 gradi centrati sul punto antisolare. Ma negli ultimi anni un fenomeno precedentemente raro è diventato un luogo comune. Un alone diventa un gradi che circonda completamente il sole. Alcuni sostengono che questi aloni, o incredibilmente rari cani da sole, sono formati da cristalli di ghiaccio, ma nulla può cambiare l'indice di rifrazione dell'acqua dal ghiaccio che formano aloni di 42 gradi. I sali di metallo hanno un indice di rifrazione più alto, pertanto formano aloni molto più stretti. L'ossido di alluminio cristallino, per esempio, ha un indice di rifrazione di 1762-1778, mentre il solfato di bario ha un indice di rifrazione di 1636. La mia tesi, secondo cui questi incredibili rari cani rari da sole sono formati da sali di metallo con un indice di rifrazione più elevato rispetto all'acqua rinforzata, dall'analisi dell'acqua piovana condotta durante un periodo di 30 giorni, quando ho registrato 21 di questi aloni a marzo-aprile del 2015. Ho raccolto l'acqua piovana da ciotoli di vetro pulite sul tetto del mio condominio San Francisco, 5 aprile 2015, molte miglia sotto vento dalla fabbrica, dalla centrale elettrica, dalla raffineria, dall'autostrada, dalla cavo, dalla miniera più vicina. L'ho inviato in un laboratorio certificato NELAP dove hanno registrato il bario di 160 microgrammi al litro. Meno di un grammo uccide un essere umano adulto. Un precedente test dell'acqua piovana raccolta a gennaio 2014 ha registrato l'alluminio a 190 microgrammi per litro. Sottoponga entrambi questi test delle acque piovane nel registro. L'aria di San Francisco dovrebbe essere incontaminata. Riceviamo venti dominati dall'oceano Pacifico. Perché devono essere i cittadini preoccupati a dover pagare per le nostre analisi delle acque piovane? E perché l'EPA ha smesso di pubblicare i dati sull'alluminio aereo disperso nel 2002? Permettete di cogliere l'occasione per presentare formalmente una richiesta di libertà di informazione per l'EPA affinché rilasci i risultati storici dei livelli di metallo nella nostra aria e acqua piovana dagli anni 80 fino ad oggi. Ho registrato centinaia di video in timelapse che mostrano la progressione di queste scie persistenti dal 2011. Migliaia di altre persone in tutto il mondo hanno documentato anche l'aumento allarmante di questi cip persistenti. Ho incontrato un silenzio assordante da parte delle organizzazioni apparentemente favorevoli come la Greenpeace, un partner orgoglioso dell'iniziativa di governance della gestione delle radiazioni solari e tutte le agenzie governative, incluse l'EPA, anche l'EPA sì. Il vostro mandato è quello di proteggere l'ambiente, in particolare l'aria che respiriamo. Non mi aspetterei che ammetteste l'esistenza di un programma nascosto come il progetto Manhattan, anche solo apertamente ovvio per una popolazione sempre più consapevole e oltraggiata. Ma quando un programma di geoingegneria sta causando milioni di morti prematuri all'anno, dovete fare di più e passarvi il dollaro avanti e indietro tra le altre agenzie interessate. Fate il vostro lavoro, la storia vi giudicherà per le vostre azioni o in azioni. Grazie.